Credo che questo risultato sia anche frutto della condivisione del programma che abbiamo indicato per il futuro. Per il futuro abbiamo indicato un programma che ha al centro un solo obiettivo, uno soltanto, il lavoro. Considero questo risultato un risultato in popolo, un risultato che ha espresso l'unità delle energie positive delle forze sanali, del mondo produttivo. A scrutini terminati si conferma la vittoria schiacciante del presidente uscente Vincenzo De Luca alle elezioni regionali. Con il 69% delle preferenze pari a 1.759.630 di voti, lo sceriffo rinnova per cinque anni la sua carica, surclassando gli altri candidati. Al secondo posto Stefano Caldoro, candidato per il centrodestra, che ha ottenuto il 18% dei voti. Segue Valeria Ciarambino per il Movimento 5 Stelle con uno scarso 10%. Non sono mancati i commenti a caldo dei due candidati sconfitti. Accettiamo il risultato, ha dichiarato Caldoro. Facciamo l'autocritica necessaria, ci rimbocchiamo le maniche e continueremo a dire la nostra facendo un'opposizione dura, senza sconti. Polimizza invece la Ciarambino. È stata una campagna difficilissima e falsata alle condizioni di partenza. Abbiamo dovuto combattere contro un avversario trasformato al Covid in una star. Il prossimo consiglio regionale vedrà quindi la predominanza ai consiglieri del centro-sinistra, che potrebbero arrivare ad occupare 34 dei 50 seggi. I restanti dovrebbero venire divisi in 9 per il centrodestra e 7 per i pentastellati. Una vittoria annunciata per molti. Infatti, a partire dal primo exit poll, era chiara la vittoria ai De Luca con ampio scarto. Dopo poche ore, il governatore aveva già tenuto una diretta in cui parlava dei progetti futuri per la campagna. Lavoro ai giovani, la preoccupazione per decine di migliaia di lavoratori in cassa integrazione, imprese in crisi. Mi augurerei che anche il governo nazionale facesse sul piano nazionale quello che abbiamo fatto sul piano regionale, un piano socio-economico di sostegno ai settori deboli della società italiana e un grande piano di sostegno alla imprenditoria del nostro Paese.